Perchè? Ma Bea basta che veniamo su sinistra Bea guarda, guarda questo impronte Vedi come va questo? Ma no così! Vabbè lui è fatto Perchè voglio andare anche là Non è fatto Ma si guarda arrivi là Ma comunque adesso Qualsiasi parte scendiamo Arriviamo sempre a casa Vabbè agora tu ti metti qua Vai così E poi vai qua Il problema lì se scivoli Se scivoli più ci sono Qui è nudo Ma io lo so Vai Bea Brava Bea Brava Bea Ma perchè hai la mascherina? Ah ok Sì 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 Ma beh Devi essere bravo Cazzo Un metro Vai 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 Parti Così Ai ma dai io sono bloccati più in alto e quindi senza spingere ho detto io mia sorella è andata a sbattere contro questo polo qua uno di questi e vai vai venuto quale quale è vai che ti filmo venuto vai venuto ti filmo seguendoti ma dove vai 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 sove qua c'era saltone guarda qua che rovo giù sempre giù ok dove vai 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 un cucinone ma però ti riesci da un po' di spinta vai giudy vai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.